ciao benvenuto in questo nuovo video oggi parliamo di armonizzazione della scala maggiore è un argomento molto importante soprattutto per chi scrive musica perché poi le canzoni sono sono fatte dagli accordi presi dalle varie armonizzazioni quindi negli altri video abbiamo visto dovresti saper fare le scale maggiori sulle cinque posizioni in tutte le tonalità e riconoscere le triadi maggiori minori e diminuite per la maggiore abbiamo visto una posizione in particolare che adesso ti faccio rivedere prendiamo il do maggiore 2 1 4 do mi sol ok a mano ferma questa è la triade maggiore se volesse una triade minore invece andiamo a prendere col dito 1 prendiamo sempre il do do mi bemolle sol 1 4 poi cambia ancora e 3 dopo andremo a vedere bene nello specifico però useremo queste queste ditteggiature allora noi dobbiamo armonizzare una scala maggiore prendiamo la scala di do perché chiaramente quella senza alterazioni in chiave ed è la più semplice prima lo facciamo sullo strumento e poi andremo anche a scriverlo allora sullo strumento noi abbiamo quindi do re mi fa sol la e si questi sono i sette gradi della scala per ogni grado andiamo a costruire una triade cioè a costruire un accordo fatto da tre note l'accordo è formato da tre suoni sono sovrapposizioni di terze quindi in partendo dal do do re mi quindi il do è la prima re mi è la la seconda nota mi mi fa sol è la terza nota quindi noi avremo tonica che il do terza che il mi e quinta che è il sol questa cosa qua poi andiamo chiaramente io adesso te l'ho già cercato suonata sul basso andiamo a cercarla sul basso do mi è una terza maggiore si miss do sol è una quinta giusta si le quinte ricordo se noi abbiamo la tonica al tasto 3 la sua quinta sarà due tasti una corda sotto la quinta giusta sta sempre lì sul basso elettrico quindi do sol questa è una quinta giusta terza maggiore do mi abbiamo partiamo col dito due cambiamo corda e risaliamo di un tasto quindi primo grado chiaramente armonizzazione in scale di do maggiore sarà maggiore do mi sol secondo grado re andiamo quindi sulla nota re prendiamo tutte le toniche degli accordi in corda di la quindi tasto 5 re noi abbiamo re mi fa fa sol la quindi re fa la tonica terza quinta indice re perché il fa è una terza minore infatti la troviamo qua le tonica terza maggiore quindi calce che f cursano di do maggiore e li failato se noi mi sono dietro formato di do maggiore secondo grado triade minore re fa la terzo grado mi andiamo un po più veloce mi fa sol la si mi sol si mi sol sin triade minore quarto grado è quadto grado scusami fa fa sol la fa la do tonica terza quinta sempre fa la do è una triade maggiore quindi partiremo con il 2 maggiore perché perché la distanza fa la è di due toni fa la do quinto grado sol si re sempre maggiore sesto grado la do mi tonica terza minore mi quindi sesto grado minore settimo grado si re fa qua attenzione perché cambia un pochettino si re fa si re è una triade è una terza minore chiaramente un tono e mezzo il fa però è più stretto rispetto a una quinta giusta questa è una quinta giusta questa è una quinta diminuita quindi l'accordo sarà minore con la quinta diminuita e si dice diminuito questi sono i sette gradi la cosa più importante secondo me per anche visualizzarli e poi soprattutto trasportarli nelle altre tonalità è quella di scriverli quindi ho una lavagnetta e andiamo a scriverci quindi noi abbiamo aiuto adesso non funziona più ok noi abbiamo do re mi fa sol la e si che sono rispettivamente primo secondo terzo quarto quinto sesto e settimo grado questa cosa è importante del grado perché poi cambiando tonalità i gradi rimangono questa qua è la nostra tonica a cui dobbiamo metterci una terza e una quinta noi abbiamo do mi sol quindi adesso le faccio un po più veloce perché le abbiamo già viste sul basso re fa la mi sol si fa la do sol si re la do mi si re fa abbiamo scritto tutte le nostre triadi adesso andiamo a vedere se sono maggiori minore o diminuite abbiamo visto che possono essere di questi tre tipi do mi sol e maggiore quindi andiamo a siglarle sopra ok chiaramente adesso sono solo a triadi in un altro video poi andremo a mettere anche la settima che andrà a mettere ancora un ulteriore terza sopra e quindi a cambiarmi poi il siglato però facciamo una cosa per volta quindi primo grado do mi sol maggiore secondo grado re fa la minore e scriviamo di m potrevo anche scrivere di meno terzo grado mi minore e m quarto grado fa maggiore f quinto grado sol maggiore g sesto grado la minore a m settimo grado diminuito b col cerchio oppure potevo anche scrivere b dim e questi sono cosa devo memorizzare da questo specchietto devo memorizzare che il primo il quarto ed il quinto sono maggiori mentre secondo terzo e sesto sono minori e il settimo fa storia a sé ed è diminuito perché devo memorizzare questa cosa perché nelle altre tonalità sempre il primo quarto e quinto sono maggiori secondo terzo e sesto minori e settimo diminuito quindi rimane così quindi la cosa che ti consiglio di fare per memorizzarli e vabbè suonarteli come come ho fatto io poi scriverteli anzi prima scriverti e dopo provare a suonarli e cosa devo fare devo prendere la gomma cancellare tutte le costruzioni di triadi lascio soltanto l'impalcatura cioè i gradi tonica terza e quinta e vado a costruirmeli quindi siamo in re maggiore prendiamo re maggiore tonica prima di tutto alterazioni in chiave re maggiore a fa e do diesis quindi re mi fa diesis sol la si e do diesis queste sono le toniche di ogni accordo ogni triade che vado a costruire e qua andiamo a costruirle re fa diesis attenzione perché tutti fa che incontro devono essere diesis la mi sol si fa diesis la do diesis sol si re la do diesis mi si re fa do diesis mi sol e qua vado a confrontare e risiglare quindi il primo quarto e quinto controllo è adesso io vado veloce però controllare anche sul basso tieni il basso e controlli ad esempio quinto grado la do diesis mi la do diesis mi controllo che sia maggiore infatti è maggiore quindi il primo re maggiore di il quarto sol maggiore il quinto la maggiore secondo e terzo e sesto minore quindi mi minore e me infatti mi sol si terzo grado minore scusa fa diesis m infatti andiamo a controllarlo fa diesis la do diesis minore terza minore quinta giusta sola poi il si anche questo sarà minore e il do diesis diminuito ok lo fai per tutte le tonalità e poi vai a suonarmi le varie triadi questa cosa è secondo me veramente molto importante anche perché mi trovo degli accordi ad esempio mi vado a trovare mi trovo tre accordi mi minore la re due battute di re io dal siglato posso cercare di capire in che tonalità sono facendo delle ipotesi potrei anche essere da più parti però ad esempio io vedo che il mi minore può essere un secondo grado il la può essere un 5 e il re può essere un primo grado infatti lo vediamo lo vediamo qua sopra nell'armonizzazione e le note che andrò a scegliere quando o crea un riff oppure quando il chitarrista suona gli accordi oppure quando si improvvisa saranno quelle di re maggiore quindi le alterazioni di re maggiore per questo è tanto importante la l'armonizzazione di una scala bene penso spero di averti detto tutto se hai qualche dubbio scriviamo qua sotto così oppure scriviamo anche in privato sarò lieto di poterti aiutare se se posso con le mie conoscenze grazie per aver visto il video fammi sapere se questi video ti sono utili noi ci vediamo al prossimo video ciao a presto carlo ciao